Il convento di Sant'Antonio di Mercato Sanseverino, il famoso convento francescano, poi il simbolo della città, sono iniziati da alcuni giorni i lavori di restauro dell'antica struttura per la soddisfazione del sindaco Antonio Somma e dell'intera giunta di Mercato Sanseverino. Un'opera importante per il nostro territorio perché come dicevamo il convento francescano dei frati minori è un po' il simbolo della città. Un'opera di urbanizzazione ma soprattutto di restauro di una certa importanza per un lavoro di circa 3 milioni di euro finanziato dall'Unione Europea e dalla Regione Campania. In quest'ottica il sindaco di Mercato Sanseverino Antonio Somma ha tenuto a ringraziare l'assessore regionale al turismo Corrado Matera che più di tutti si è adoperato per la realizzazione di questo progetto e soprattutto per fare arrivare questo importante finanziamento che servirà come dicevamo all'opera di restauro di questa struttura religiosa e successivamente a farla rientrare in un progetto più ampio riguardante il castello di Sanseverino. Perché questo? Perché l'amministrazione comunale con il sindaco Somma ha intenzione di favorire la presenza turistica sul nostro territorio sfruttando le bellezze di Mercato Sanseverino, il convento ed il castello. In quest'ottica speriamo che il tutto venga realizzato al più presto e si realizzano anche posti di lavoro qui nella nostra Mercato Sanseverino. Grazie a tutti.